In questo video voglio utilizzare una nuova funzione di Photoshop CC nella sua edizione 2014, appena quindi rilasciata, che mi permette di dare una sensazione di movimento alle immagini statiche. Sono dei strumenti molto potenti che mi permettono quindi di sviluppare della creatività che prima non era altrimenti raggiuncibile. Guardate il progetto che stiamo sviluppando, è una serie di poster legati a dei concerti realizzati da parti di band musicali che magari il nostro cliente sta sponsorizzando. Prendiamo proprio questa immagine nel particolare e ve la apro e vediamo un po' esattamente di che si tratta. È un vecchio registratore a bobine, perché non dare magari una sensazione di movimento alle bobine e quanto è difficile riuscire a fare questa cosa senza gli strumenti che adesso vi mostro. Dal menu filtro vado a scegliere Blur Gallery e sceglierò in questo caso Spin Blur. Spin Blur è un strumento molto potente che come vedete mi permette di dare sensazione di movimento circolare in relazione allo spostamento proprio del movimento circolare definito da quest'area che io vado a movimentare. In questo caso quindi mi vado a posizionare proprio esattamente su questa bobina, vado a dare la dimensione a mio piacimento quindi e la rotazione e l'inclinazione a mio piacimento dell'effetto di movimento e guardate come in 4x48 sono stato in grado di dare proprio questo tipo di sensazione che può essere tra l'altro estesa o circoscritta al suo interno semplicemente col movimento di queste maniglie di controllo. Naturalmente l'intensità del movimento di rotazione può essere amplificato a mio piacimento, dando quindi una sensazione vorticosa o molto più moderata a mio piacimento. Ma non solo, in questo caso mi aiuta inoltre a dare un ulteriore senso di verosimiglianza anche la possibilità di definire degli effetti tipicamente di stroboscopio in maniera tale che come vedete aumentando questo valore io posso dare la sensazione proprio di duplicazione diciamo degli elementi che stanno ruotando che contribuisce a dare l'effetto ottico ancora più verosimile di rotazione. Questo diciamo era un primo esempio molto interessante. Lo applichiamo e chiudiamo pure senza registrare in questo caso il mio documento. Voglio però farvi vedere un altro esempio molto più complesso perché diciamo una valutazione circolare è un conto ma ahimè diciamo gli oggetti che si muovono non sempre fanno dei movimenti circolari ma magari fanno dei movimenti ad arco quindi qualcosa di molto più complicato da gestire e da riprodurre. Bene, è proprio ahimè questo il caso in cui abbiamo questo chitarrista a cui io vorrei dare la sensazione che stia strimpellando sulla sua chitarra quindi con un movimento ad arco diciamo sulle corde della sua chitarra. Bene, per fare questo ancora una volta dal menu filtro scegliamo Blur Gallery e scegliamo Path Blur quindi un movimento lungo un tracciato. Anche qui si apre quasi oserei dire un programma nel programma dove viene evidenziato lo vedete proprio questa freccia che indica la direzione del movimento che io sto imprimendo alla mia immagine e ovviamente il movimento è contestuale alla posizione quindi io per esempio in questo caso lo vedete vado a definire che il movimento sia lungo questa direzione e vedete che effettivamente la sensazione di movimento è legata proprio a questo ma addirittura la cosa pazzesca è che il movimento non necessariamente è lineare ma può essere anche curvilineo in maniera tale proprio da dare esattamente la sensazione che è quella che volevo che il movimento sia proprio circolare. Inoltre potete vedere che l'intensità dell'applicazione diciamo di questo movimento io la posso controllare con questi cursori che determinano per esempio la velocità in ingresso e in uscita quindi la velocità in partenza e in arrivo anche diversa rispetto a quello che io sto applicando e posso controllare tutti questi fattori anche in maniera numerica con grandissima precisione. Inoltre si possono fare anche movimenti non necessariamente solo curvilini ma anche serpentiformi quindi dare la forma che vogliamo e questo mi permette di sperimentare e di ottenere dei risultati altrimenti inarrivabili rispetto a prima partendo oltretutto dal concetto che come potete vedere nel momento in cui applico ovviamente questo filtro questo filtro viene applicato nella totalità della mia immagine ma come vedete non c'è nessun problema perché perché naturalmente unitamente all'applicazione del filtro viene anche creata una maschera tale per cui io posso per esempio come sto facendo adesso seppur in maniera molto rapida circoscrivere l'applicazione di questo filtro all'interno soltanto dell'area in cui voglio che esso venga applicato e far sì che quindi l'effetto di movimento come vedete sia limitato esclusivamente alla mano dell'artista che sta suonando la sua chitarra. Veramente qualcosa di spettacolare e altrimenti non realizzabile senza l'ausilio di strumenti potenti come questi. questo era lo strumento della galleria degli effetti di movimento di Photoshop CC edizione 2014.